L'operazione doveva scattare fra il 5 e il 6 agosto 1980. Gheddafi si doveva recare a Tobruk, in una visita ufficiale al governatore della città, il maggiore Idris Shehaibi, che di Gheddafi era stretto amico e già compagno di lotte. Il pretesto era mostrare al leader libico il sistema di difesa che in funzione anti-egiziana gli uomini di Shehaibi avevano creato in Cirenaica. Si trattava di una trappola. Shehaibi era il capo dei congiurati, una delle menti del colpo di stato che doveva portare alla caduca di Gheddafi. Una volta atterrato, l'aereo del reis libico doveva essere preso d'assalto. Gheddafi ucciso con la nonna brigata libica, comandata da Shehaibi, che partendo da Tobruk aveva dovuto occupare alcune basi militari per poi, ottenuto l'appoggio delle tribù beduine del sud della Libia, progressivamente impadunirsi di Bengasi e poi di Tripoli. E rovesciare il governo gheddafiano. Un piano ambizioso, forse troppo, che era stato organizzato da francesi egiziani con una strana e ambigua collaborazione di alcuni italiani e che avrebbe dovuto cambiare il volto della Libia e dell'intero Mediterraneo. Ma che fallì in modo disastroso, con due italiani che rimasero per oltre sei anni nelle carceri di Gheddafi. Questa è la storia dell'operazione Tobruk, un altro drammatico e cruciale, e in gran parte sconosciuto, evento di quell'estate 1980. Sulla base della documentazione oggi disponibile, possiamo finalmente provare a fare un po' più di chiarezza, su ritroscena di quando accadde in quell'agosto 1980. Come scrive la storica Bruna Bagnato, in un saggio pubblicato sul libro 1980 all'anno di Ustica, che poi naturalmente metteremo in descrizione, le relazioni tra la Francia e la Libia di Gheddafi furono a lungo complesse, ambigue, tortuose, perfino incoerenti. Durante la presidenza di Georges Pompidou, che fu presidente della Francia dal 1969 al 1974, per esempio, i rapporti tra i due paesi furono tutto sommato positivi, tanto che la Francia arrivò, tra le altre cose, anche a rifornire di aerei Mirage la nascente aviazione libica gheddafiana. Tutto questo, però, peggiorò rapidamente con la presidenza di Valéry Giscard d'Estaing, che fu presidente francese dal 1974 al 1981. Quelli, infatti, furono gli anni nei quali la Libia di Gheddafi cominciò a estendere la sua influenza in tutta l'area francofona dell'Africa centrale, andato ad intaccare in modo violento gli interessi francesi in quella zona, in particolare in Chad. Ora, la storia della guerra tra Libia e Chad è talmente lunga e articolata che richiederebbe un video a sé stante. Qui, in una sintesi estrema, basta ricordare che nel corso del 1978 i ribelli del cosiddetto Frolinat, fronte nazionale di liberazione del Chad, appoggiati da Gheddafi, scatenarono l'offensiva, minacciando di travolgere il governo centrale filo-francese di Félix Malloun. Si era all'apice di una sanguinosa e complessa guerra civile che durava da anni tra Gheddafiani e filo-francesi e uno dei principali oggetti del contendere era in gran parte il possesso della striccia di Ausu, un territorio prevalentemente desertico che si trova nel nord del Chad, lungo il confine con la Libia, ma un territorio ricchissimo, in particolare di uranio. Di queste vicende, per la parte che ci interessa, parla proprio Giscard d'Esten nelle sue memorie. Dopo aver ricostruito con minuzia i contrasti tra le diverse fazioni del Chad, Giscard ricordava che nel 1978 la fazione del Frolinat, guidata da Gucuni Ueddei, sostenuta dalla Libia, dichiarò guerra al governo centrale chadiano di Malloun, che peraltro in passato era stato ostile ai francesi, ma che questa volta chiede aiuto alla Francia. Giscard ricorda anche che molti capi di Stato africani, da Leopold Senghor in Senegal, Agnassimbe Iadema in Togo, ma soprattutto Uffette Buigny in Costa d'Avorio, uno dei principali e più fedeli alleati della Francia, chiesero insistentemente un intervento francese per impedire il dilagare delle forze libiche in Chad, armati dai sovietici, e, come abbiamo visto nel video, perché ustica anche dagli italiani, in una fase nella quale gli Stati Uniti di Jimmy Carter erano sostanzialmente disinteressati a quanto stava avvenendo, in primis, all'arrivo in Mali e in Angola, di armi e consiglieri sovietici. Scrive Giscard, Giscard rievoca anche una drammatica riunione con i vertici militari, al termine della quale gli fu vagheggiata l'ipotesi del ritiro definitivo della Francia dal Chad, o qualcosa che per lui era intollerabile, perché voleva dire il trionfo di Gheddafi, il salvi chi può per gli alleati francesi in Africa, e per questo decise un forte intervento militare, affinché la capitale del Chad, Jamena, fosse difesa a tutti i costi. E fu quello che avvenne. Le forze libiche vennero fermate, si creò poi un governo di coalizione che ebbe vita breve. Ora, la guerra del Chad è una vicenda tragica, probabilmente ormai del tutto sconosciuta, che si trascinò ancora per molti anni con innumerevoli cambi di alleanze e che si concluse nel 1994 davanti alla Corte di Giustizia dell'AIA che assegnò la striscia di Ausù al Chad. Ma quello che qui ci interessa, quello che qui è importante, è evidenziare quanto quella vicenda esagerbò i rapporti tra Francia e Libia. Forse fu quello che più di ogni altra cosa li fece precipitare. E non basta. A fine gennaio 1980 ci fu una insurrezione di miliziani tunisini filolibici a Gafsa, in Tunisia, anche in questo caso stroncata militarmente da un intervento francese in sostegno all'esercito del presidente tunisino Abib Bourguiba. Ma per alcune ore gli insorti avevano preso il controllo della maggior parte dei centri della città, incitando la popolazione a ribellarsi a Bourguiba. Negli scontri ci furono decine di morti e, una volta domata la rivolta, il tribunale tunisino avrebbe condannato alla piena capitale molti dei partecipanti, con la Francia che accusò apertamente la Libia di aver fomentato quelle proteste. Nei giorni successivi, poi, a Tripoli e Bengasi vi furono numerose manifestazioni antifrancesi che portarono anche al saccheggio dell'ambasciata francese. E il 23 marzo 1980 si sfiorò la tragedia, allorché due miraggi libici, ironia della sorte, erano due aerei venduti alla Libia ai tempi della presidenza Pompidou, minacciarono di abbattere un aereo francese Atlantic in volo a largo delle coste tunisine. La situazione era, insomma, incandescente e, ovviamente, in quel quadrante geografico vi era anche da considerare la profonda rivalità che esisteva tra Gheddafi e il presidente egiziano Anwar Sadat, che era accusato, in modo particolare, di aver firmato il trattato di pace con Israele a Camp David nel settembre 1978 e poi di essere andato in visita ufficiale a Gerusalemme. Per questo, nel corso del 79, l'Egitto era stato sospeso dalla Lega Araba, la cui sede fu trasferita dal Cairo a Tunisi e, a cavallo, fra fine 79 e inizio 1980, le tensioni tra Libia e Egitto furono vicine a degenerare. La Libia aveva costruito tutta una serie di fortificazioni militari ai confini con l'Egitto, ma, dall'altra parte, proprio l'aver firmato un trattato di pace con Israele permise a Sadat di accrescere notevolmente le proprie difese sempre lungo il confine, proprio perché non vi era più la necessità di tenere impegnate le proprie forze armate in funzione anti-israeliana. E, peraltro, già da metà anni 70, Sadat aveva dato rifugio a due personaggi che Gheddafi considerava tra i massimi traditori, quali il colonnello Omar Waheshi e il maggiore Mohim Eluni, che avevano combattuto con Gheddafi, ma che poi avevano cambiato fronte. E dalle fonti oggi disponibili apprendiamo che questi due personaggi già nel 1975 avevano proposto ai giziani e francesi di rovesciare Gheddafi e il fallimento di quel loro progetto portò alla loro precipitosa fuga dalla Libia. A peggiorare le cose, diciamo così, il 15 giugno 1980 al Cairo si svolse un vertice ufficiale di oppositori di Gheddafi, al quale parteciparono più di mille persone, esuli libici, nemici politici di Gheddafi che invocarono pubblicamente azioni contro il raiz libico, il quale da parte sua minacciò apertamente di ritorsioni l'Egitto per aver dato spazio a quelli che riteneva i suoi peggiori nemici. E ricordiamo che quello era il periodo nel quale Gheddafi, ne abbiamo parlato a lungo nel video perché ustica, aveva scatenato la caccia ai suoi oppositori in tutta Europa e anche in Italia. Quindi le tensioni tra Libia e Egitto erano fortissime e d'altronde come diremo a breve nell'operazione Tobruk vi doveva essere un chiaro ruolo egiziano. Anzi, le più recenti ricostruzioni storiografiche dimostrano che nella primavera 1977 Sadat propose a Parigi di organizzare un colpo di stato contro Gheddafi che avrebbe avuto anche il tacito consenso del Marocco ma in quel caso furono gli americani opporsi. Ora, i rapporti degli americani con la Libia in quella fase erano ancora in qualche modo undivaghi. La vera rivalità sarebbe nata qualche anno dopo negli anni Ottanta nell'era Reagan. Gli americani naturalmente non amavano Gheddafi ma ne riconoscevano il suo anticomunismo e temevano che al suo posto poi potesse andare qualcuno di ancora più filo sovietico. mentre Gheddafi al di là della propaganda davvero filo sovietico non fu mai. Qui un piccolo inciso in un bel libro dedicato ai rapporti tra Andreotti e Gheddafi scritto da Massimo Bucarelli e Luca Micheletta che naturalmente metteremo in descrizione viene citato un documento dell'archivio Andreotti dove è riportato un colloquio riservato che nel 1984 ebbero proprio Gheddafi e Andreotti nel quale il primo chiese all'allora ministro degli esseri italiano perché il governo americano di Reagan lo depingeva come filo sovietico perché lui per motivi religiosi e concezioni politiche mai poteva essere marxista anzi disse Gheddafi la mia dottrina è agli antipodi del marxismo leninismo. Tornando adesso alla nostra storia nonostante la mancata attuazione del colpo di stato della primavera 1977 i tentativi destabilizzanti verso la Libia continuarono anche perché come detto specie a causa degli eventi del Chad le relazioni con la Francia crollarono definitivamente secondo quanto si legge in alcuni studi usciti in lingua francese in quella fine anni 70 vi fu una collaborazione tra lo SDEC servizio segreto estero francese e gli apparati egiziani per alimentare un ostacolo di tensione al confine egiziano-libico anche attraverso l'utilizzo di sabotaggi e perfino attentati che dovevano destabilizzare il fronte interno libico a dirigere queste operazioni fu la cosiddetta section d'action dello SDEC che era diretta dal colonnello Alain de Gagnero de Maroles specializzata in azioni clandestine de Gagnero de Maroles è come si dice con una formula un po' abusata ma sempre efficace un personaggio da romanzo aveva passato tutta la vita nello SDEC e negli anni si era fatto una fama di grande esperto di operazioni cosiddette coperte aveva agito in Indocina in Algeria peraltro proprio all'interno di una unità segreta e come diremo sarà pienamente coinvolto nel tentativo di rovesciare Gheddafi dell'estate 1980 quando peraltro era anche diventato il responsabile della direzione di intelligence dello SDEC una delle cariche più importanti di fatto ormai lo si poteva considerare il numero due dei servizi segreti francesi e su queste vicende noi abbiamo una fonte diciamo così insospettabile il numero uno dei servizi segreti francesi Alexander de Maranges il capo dello SDEC dell'epoca che nelle sue memorie ricorda anche che nel 1978 Sadat chiese di nuovo esplicitamente ai servizi francesi di mettere appunto un piano che prevedesse anche l'eliminazione fisica di Gheddafi e che in quel caso lo SDEC disse di no ma che le richieste egiziane di fare qualcosa contro il raiz libico continuarono a essere pressanti anche nei mesi successivi tanto che ricorda ancora De Maranges proprio con la finalità di pianificare azioni contro Gheddafi nel febbraio 1979 Giscard d'Esteen inviò al Cairo un altro personaggio fondamentale degli apparati francesi René Journiac questi era il capo della cosiddetta cellula africana dell'Eliseo la sezione che si occupava specificatamente di quel quadrante geografico per conto del governo francese Journiac era stato il principale collaboratore di un personaggio naturalmente a suo modo quasi leggendario dei servizi francesi ovvero Jacques Foucart che dal 1960 al 1974 negli anni soprattutto di De Gaulle ma parzialmente anche di Pompidou fu il segretario generale del palazzo dell'Eliseo per gli affari africani e malgasci diventando una figura centrale in quella strategia chiamiamola così geopolitica che in seguito sarebbe stacca definita appunto France-Afrique qui una curiosità forse pochi ricordano che questa definizione France-Afrique la cognò l'allora presidente della costa d'Avorio il già citato Félix Uffet-Bogni che era uno dei più stretti alleati francesi in quell'area ora di Foucart ti potrebbe veramente parlare a lungo basti qui solo dire che la sua figura fu fondamentale per creare e mantenere la sfera di influenza della Francia nell'Africa subsahariana quanto Journiac che aveva ereditato da Foucart il soprannome di Signore d'Africa è un personaggio anche lui probabilmente sconosciuto ma che negli anni di Giscard d'Estaing fu un vero e proprio plenipotenziario della Francia in Africa Journiac non era un militare di professione era magistrato ma ebbe un ruolo che in certi casi lo portò ad avere perfino più potere del ministro degli esteri tra le altre cose a fine anni 70 fu particolarmente impegnato in Chad condusse alcune trattative per liberare ostaggi francesi cercò di mediare per portare le varie fazioni in lotta a unirsi contro Gheddafi di cui fu un acceso nemico e del cui regime auspicò più volte la fine e in effetti un tentativo di attentato contro Gheddafi a Benghazi vi fu davvero il primo settembre 1979 quando dovevano svolgersi le cerimonie per i dieci anni della presa del potere del colonnello Gheddafi prese il potere in Libia il primo settembre 1969 quel giorno primo settembre 1979 doveva esplodere una bomba sotto il palco nel quale si trovava Gheddafi l'attentato venne sventato e Gheddafi chiamò apertamente in causa i francesi anche se Giscard d'Esten ha comunque sempre negato che in quel caso vi sia stato la mano della Francia certamente invece la mano della Francia e in particolare della section d'action di De Gagnereau de Maroles vi fu tra il 20 e il 21 settembre 1979 nel colpo di stato che mise fine nella Repubblica Centroafricana al regno di Jean Bédel Bocassà un personaggio sulle cui follie e crudeltà sono stati scritti libri e su cui si potrebbero girare fiction Bocassà dominava il Repubblica Centroafricana dal 1966 e il 4 dicembre 1977 si era fatto nominare imperatore centroafricano in una sfarzosa tronfia ma a suo modo quasi grottesca cerimonia le immagini dell'epoca lo ritraggono con una corona con migliaia di diamanti su un trono a forma di aquila di bronzo dorato dal peso di due tonnellate costellato da 800.000 perle e da un milione di cristalli ma questo personaggio che si rese responsabile di terribili persecuzioni verso gli oppositori a lungo era stato uno stretto alleato dei francesi che decisero di spodestarlo in quel settembre 1979 anche se non soprattutto perché da tempo ormai Bocassà si era avvicinato a Gheddafi dal quale aveva cominciato a ricevere aiuti economici tanto che il colpo di stato avviene quando Bocassà si trova a Tripoli in una visita a Gheddafi e anche per impedire questa saldatura che i francesi intervengono in quella che prese il nome di Operazione Barracuda che oltre a Journiac vide agire e con successo la section d'action di De Gagneau de Maroles al potere in Repubblica Centroafricana tornò David Dacot che era stato il predecessore di Bocassà il 6 febbraio 1980 poi René Journiac morì in un incidente aereo l'aereo su cui stava viaggiando si schiantò sulle montagne del nord del Camerun Journiac stava rientrando proprio dal Chad per recarsi in Camerun e da lì andare poi in Gabon dove all'epoca il presidente era un altro stretto alleato dei francesi Omar Bongo tra l'altro l'aereo di Journiac batteva bandiera gabonese ed era guidato dal nipote di Omar Bongo anche qui un piccolo inciso il colpo di stato di fine agosto 2023 ha di fatto messo fine alla pluridecennale dinastia dei Bongo in Gabon ora quella di Journiac fu una morte eccellente tanto che sulla stampa si parlò più volte di una presunta mano di Gheddafi va detto mai provata chiaramente ma non c'è dubbio che la sua morte avvenne in un momento molto delicato nei rapporti franco-libici ormai ridotti a zero e Journiac era al centro di questo groviglio la sua perdita fu molto grave anche per la profondità delle sue conoscenze in Africa per le relazioni speciali che aveva con capi politici e militari africani sostituirlo era praticamente impossibile Journiac era un personaggio che manteneva sempre un profilo molto basso di lui si diceva era unicamente che tiene tutto nella testa e niente sulla carta e che appunto per questo nessuno poteva prenderne il posto eppure come scrive ancora la storica Bruno Bagnato questi insuccessi non avrebbero frenato i tentativi franco-egiziani di provocare la caduta del regime di Tripoli percepito da Parigi come una minaccia per i complessi equilibri dell'Africa subsahariana e arriviamo a questo punto all'agosto 1980 questa volta il colpo di stato viene tentato davvero ma si risolve in un completo fallimento perché qualcuno mai identificato avvisò Gheddafi di quanto stava per avvenire ossia che il suo vecchio compagno d'armi Ides Shehaibi si stava per porre la testa di una vera e propria insurrezione contro il governo centrale ibico che avrebbe dovuto portare al rovesciamento del regime e alla sua sostituzione con una giunta provvisoria guidata dai già citati Wahesh e Delauni che vivevano in Egitto non è mai stato chiarito chi fece quella soffiata sta di fatto che Gheddafi fece affluire forze realiste a Tobruk che stroncarono brutalmente ogni tentativo di rivolta va ricordato che nella città di Tobruk già nel marzo 1980 c'erano state manifestazioni e proteste in larga parte spontanee di alcuni commercianti del Suc che si erano ribellati all'atteggiamento repressivo dei comitati rivoluzionali di Gheddafi con scontri che provocarono anche diversi morti stando a quanto è oggi possibile ricostruire Gheddafi chiese a quel punto a Shehaibi di impartire una dura lezione rivoltosa a chi li aveva sostenuti ordinando arresti ed esecuzioni anche pubbliche e quello fu il punto di rottura Shehaibi ritene non fosse più possibile appoggiare simili richieste del Reis Libico e decise di prendere contatti con gli egiziani e di schierare i suoi uomini contro il governo centrale da alcuni documenti oggi declassificati del sismi e agli atti dell'inchiesta sugustica del dottor Rosario Priore apprendiamo altri particolari su quel colpo di stato le forze insurrezionali di Shehaibi avrebbero dovuto impossessarsi della base aerea di El Nasser base che peraltro era stata costruita dagli italiani e prima della presa del potere di Gheddafi ospitava mezzi della Royal Air Force inglese qui avrebbe dovuto attirare Gheddafi e essere ucciso e questo doveva essere il punto di partenza per gli uomini di Shehaibi per impadronirsi inizialmente della Cirenaica assistiti da forze egiziane ma Gheddafi era a conoscenza di questi piani che spezzò nel modo più duro possibile facendo convergere verso Tobruk le sue truppe che annientarono praticamente sul nascere la rivolta interna furono uccisi centinaia di soldati molti vennero arrestati quanto a Shehaibi lui riuscì inizialmente a fuggire cercò di scappare verso l'Egitto ma accortosi che non ce l'avrebbe fatta piuttosto che finire nelle mani degli uomini di Gheddafi si uccise sparandosi un colpo in testa resta difficile capire che cosa non funzionò capire per esempio quelli che furono in quei giorni i contatti fra americani francesi egiziani secondo un appunto del sismi naturalmente da prendere con cautela anche in quel caso gli Stati Uniti avrebbero espresso contrarietà a quel piano di rovesciamento di Gheddafi e va detto che all'epoca in diversi giornali americani uscirono articoli in tal senso ma che dietro a quella operazione vi sia stata anche una mano francese è acclarato e riconosciuto dagli stessi francesi sappiamo con certezza lui stesso l'ha riconosciuto che tra i pianificatori vi era Gagnolo Demarolz e che quel grave fallimento lo portò a dimettersi dal vertice della direzione di intelligence dello SDEC gli studiosi francesi Faligot Gisnell e Kaufer che ebbero modo di intervistare Demarolz prima della sua morte nella loro storia dei servizi segreti francesi purtroppo mai tradotta in italiano sottolineano che appunto nei servizi francesi esistevano forti rivalità e che uno degli errori di Demarolz fu aver agito in modo troppo avventato col paradosso di non essersi coordinato in modo chiaro proprio con quello SDEC di cui era un autorevole membro ma mantenendo un filo diretto soltanto con l'Eliseo da questo punto di vista un altro indizio seppur molto generico lo fornisce Pierre Marion che fu il successore di Demarange alla guida dello SDEC Marion ha raccontato al giornalista italo-americano Claudio Gatti che ha pubblicato queste dichiarazioni nel libro che metteremo in descrizione il quinto scenario che il piano stilato a Demarolz era poco convincente e poco efficace perché egli senza appunto coordinarsi con lo SDEC aveva selezionato delle persone che avrebbero dovuto organizzare il colpo di Stato ma alcune delle quali erano di scarsa affidabilità diciamo che forse l'assenza di Journiac si fece sentire certo è che Gheddafi aveva avuto una soffiata che proveniva da qualcuno di molto ben informato perché la mattina del 5 agosto a Tripoli le forze di sicurezza libiche arrestarono anche un funzionario dell'ambasciata francese tale Christian Dallaportat che era in realtà un agente dello SDEC in contatto con i rivoltosi e anche questa è una vicenda davvero poco chiara fu arrestato anche il giovane figlio di Dallaportat ed entrambi furono liberati diversi mesi dopo in seguito a complesse e mai chiarite fino in fondo trattative insomma un vero smacco per i francesi tanto che l'allora capo dello SDEC di Marange sempre nelle sue memorie rivela che alcuni mesi dopo il 29 ottobre 1980 come rappresaglia antilibica per quel fallito colpo di stato uomini ombra francesi piazzarono delle cariche esplosive sulla fregata libica Dat Asawari che all'epoca era ormeggiata in Italia al porto di Genova dove era sottoposta a lavori di riparazione e trasformazione è un'altra storia incredibile di quel 1980 alle 4 del mattino del 29 ottobre a bordo della Dat Asawari ci furono delle esplosioni che la danneggiarono in maniera molto pesante anche se non la fecero affondare l'attentato venne rivendicato da un sedicente ma chiaramente inesistente fronte di liberazione maltese che sosteneva di lottare contro Gheddafi le indagini acclararono che l'attentato fu eseguito da veri e propri professionisti giunti via mare via subacquea e che riuscirono a entrare in un cantiere completamente recintato e chiuso con cancelli automatici è una vicenda che ricorda da vicino in qualche modo l'attentato ai ripetitori di Monte Capanne di cui abbiamo parlato in un precedente video come scrive Matteo Pugliese in un bel articolo sotto forma di saggio dedicato proprio al sabotaggio di Genova la data Sahuari era la nave ammiraglia della marina di Gheddafi la cui manutenzione veniva svolta in Italia il che fa capire che rapporti c'erano fra Libia e l'Italia l'operazione di minamento fu supervisionata dal quartiere generale francese presso la base corsa di Aspretto da dove partirono gli incursori francesi in questo modo lo SDEC decise di punire la Libia per il fallimento dell'operazione Tobruk e chissà che non ci fosse anche una volontà di punire anche l'Italia c'è da segnalare a teleproposito una strana intervista che comparve sul Corriere della Sera in prima pagina il 2 agosto 1980 data tristemente ricordata perché fu il giorno della straga di Bologna un'intervista ad alcuni dissidenti libici i quali affermavano che in Libia si era la vigilia di avvenimenti importanti che la battaglia contro Gheddafi era arrivata alla fase cruciale e quando il giornalista del Corriere della Sera autore dell'articolo Mino Vignolo chiese chi era che nel mondo aveva comunque interesse a mantenere Gheddafi al potere la risposta fu questo è un discorso che porta lontano e che riguarda le due superpotenze ma riguarda anche un po' voi italiani quindi una frase certamente molto criptica e l'ultimo oscuro capitolo di questa vicenda riguarda proprio la sorte di due italiani perché se quel 5 agosto 1980 a Tripoli fu arrestato all'agente dello SDEC dalla Portà negli stessi giorni nelle carceri di Gheddafi finirono anche due imprenditori italiani originari di Padova che da anni lavoravano in Libia accusati di complicità nel colpo di stato si trattava di Edoardo Seliciato titolare di una dita di import-export e del suo collaboratore Enzo Castelli inizialmente venne arrestato anche un terzo italiano che poi però sarebbe stato quasi subito scagionato ora quello che accadde loro fu davvero drammatico Seliciato lavorava in Libia da molto tempo e nel corso degli anni 70 avendo operato spesso a Tobruk era diventato amico di Shehaibi che peraltro lo aveva invitato anche al suo matrimonio quindi c'era un rapporto molto stretto in un'intervista che Seliciato ha rilasciato a Claudio Gatti pubblicata nel già citato libro Il Quinto Scenario rivelava che a inizio maggio 1980 Shehaibi lo informò del progetto di colpo di stato quello che aveva convinto il governatore di Tobruk che era giunta ora di spodestare Gheddafi erano state appunto le gravi repressioni che gli uomini di Gheddafi avevano attuato dopo la rivolta di Tobruk del marzo 1980 di cui abbiamo detto Seliciato ricordò che in un colloquio privato Shehaibi gli disse che era giunto il momento di fermare Gheddafi che stava mandando in rovina il paese e che per questo nelle forze armate libiche si era formato un movimento di ufficiali ostili al governo centrale e pronti a rovesciarlo l'obiettivo era arrivare a un regime filo occidentale in Libia che chiudesse qualsiasi rapporto con il mondo dell'est quello che mancava ai congiurati per imporsi sulle forze di Gheddafi disse ancora Seliciato riportando le parole di Shehaibi era una necessaria copertura aerea che però poteva essere fornita dall'Egitto qui c'è già una stranezza perché poi Seliciato ha raccontato che Shehaibi gli chiese se lui era disponibile a prendere contatti col governo egiziano al fine di ottenere un appoggio politico e appunto copertura aerea Seliciato venne scelto perché poteva muoversi liberamente tra Libia e Egitto cosa che Shehaibi e i suoi collaboratori non potevano fare stranezza perché non si riesce a capire per quale motivo servisse Seliciato per informare gli egiziani del progetto di colpo di stato visto che dietro quelle manovre vi era la section d'action di De Gagnolo de Marol che si presume fosse autonomamente in grado di contattare i vertici egiziani o forse serviva qualcuno capace di tenere sul campo i contatti qualcuno insospettabile però questo fa in qualche modo capire le carenze di organizzazione che vi furono dietro quel fallito colpo di stato sta di fatto che Seliciato accettò ritenendo che aiutare Shehaibi a prendere il potere gli poteva garantire un'ottima posizione in un futuro governo post Gheddafi e a quel punto informò di tutto questo il suo collaboratore Enzo Castelli che a Tripoli dirigeva gli uffici libici della sua società chiedendogli se tramite le sue conoscenze Castelli aveva molti contatti al Cairo poteva in qualche modo favorire un incontro con esponenti del governo egiziano ora il ruolo di Castelli fu in realtà di breve durata e va detto francamente neanche chiarissimo tanto che di lì a poco Seliciato come diremo si rivolse a un altro suo collaboratore secondo quanto si può oggi ricostruire Castelli avrebbe cercato di scavalcare Seliciato proponendosi direttamente lui a Shehaibi come mediatore con gli egiziani ma a quel punto Shehaibi si allarmò per la diffusione della notizia e negò a Castelli che gli fosse un vero progetto insurrezionale anzi gli disse che la richiesta di contatti con l'Egitto riguardava semplicemente un'esportazione illecita di capitale Seliciato Seliciato racconta a Claudio Gatti che poi Shehaibi lo rimproverò duramente per quella fuga di notizie va detto che nelle sue deposizioni rilasciate a inizio anni 90 al giudice priore Castelli ha riconosciuto di aver avuto notizia dell'esistenza di un progetto di colpo di stato contro Gheddafi guidato da un gruppo di ufficiali libici tra cui vi erano persone di sua conoscenza ma ha detto di non aver mai dato disponibilità a partecipare a quell'operazione tanto che in effetti Seliciato coinvolse poi un altro italiano tale Aldo del Re Aldo del Re è uno di quei personaggi certamente sprogiudicati ma a loro modo di grande abilità che vivono in un certo sottobosco politico economico pronti a svolgere sempre incarichi particolari del Re ufficialmente era un mediatore di affari che aveva vasti contatti nel mondo arabo e con il quale più volte in passato Seliciato aveva collaborato un personaggio veramente complicato che era legato a settori dell'estrema destra veneta ma che poi militò anche nel partito radicale e pensate che nel recente processo sulla strafe di Bologna il processo contro il militante di Naro Gilberto Cavallini che è stato condannato in primo e secondo grado tra le testimonianze principali dell'accusa ritenute credibili testimonianze postume perché poi Del Re è morto alcuni anni fa c'è stata appunto anche quella di Aldo Del Re che a inizio degli anni 90 aveva detto ai magistrati di Bologna di aver avuto informazioni in anticipo sulla strage di Bologna grazie a certi suoi legami nel mondo dell'estrema destra veneta ora questa è una questione molto articolata e complessa di cui naturalmente non possiamo occuparci qui magari lo faremo in un altro video sta di fatto che Aldo Del Re e questo è accertato tramite i suoi contatti riuscì a ottenere un incontro con l'ambasciatore egiziano in Italia a quale raccontò del progetto del colpo di stato riuscì così a farsi accreditare al Cairo e anche a far fissare un appuntamento all'ambasciata egiziana in Italia per Sericiato tutto questo avvenne nella seconda metà di luglio 1980 e di lì a poco a Roma presso l'ambasciata egiziana che era ed è a Villa Ada si svolsero e siamo ormai a fine luglio 1980 due incontri tra funzionari dell'ambasciata Aldo Del Re e Sericiato che era giunto dalla Libia nei quali si convenne questa è la versione di Del Re che il golpe doveva partire con un finto attacco delle forze armate libiche contro quelle egiziane il che avrebbe poi giustificato l'intervento aereo egiziano Del Re racconta addirittura di essersi poi recato in Egitto dove grazie ai buoni uffici dell'ambasciata egiziana in Italia avrebbe incontrato addirittura Sadat in persona oltre a vari vertici militari egiziani ha raccontato al giudice priore questa è la sua deposizione dopo gli incontri di Roma viaggiai in incognito per il Cairo con un aereo di linea dell'Egipter nella capitale fu ricevuto dai emissari del presidente Sadat che mi accompagnarono ad Alessandria dove erano giunti alcuni libici coinvolti nel colpo di stato che avevano portato i piani operativi a quel punto torniamo al Cairo dove ci furono gli incontri con Sadat e Mubarak che all'epoca era capo dell'esercito Mubarak tra l'altro veniva proprio dall'aviazione Del Re racconta anche che Sadat gli chiese che ruolo in tutto questo avevano i francesi ora questa è una versione francamente da prendere con cautela della cui veridicità si può anche dubitare probabilmente qui vengono mischiate sicure verità ad affermazioni probabilmente gonfiate ma in qualche modo questo forse fa capire che in quel tentato colpo di stato mancò una reale coordinazione tra i vari attori drammaticamente reale invece fu la sorte di Sediciato mentre Del Re in Libia non tornò mai e contro di lui fu spiccato dalle autorità libiche un mandato di cattura rimasto in evaso Sediciato dopo l'incontro all'ambasciata egiziana in Italia a inizio agosto 1980 rientrò a Tobruk convinto dell'imminenza del colpo di stato ma nella notte fra il 4 e il 5 agosto 1980 al campanello della sua casa suonarono gli uomini dei servizi segreti di Gheddafi che lo arrestarono lo caricarono su una jeep e dopo un viaggio di oltre 10 ore lo trasferirono a Tripoli in una cella sotterranea con lui era stato arrestato anche Enzo Castelli qui c'è un piccolo giallo in una sua deposizione davanti al giudice priore Sediciato dice di essere stato arrestato nel pomeriggio del 2 agosto 1980 quindi poche ore dopo la strage di Bologna e questo ha fatto vedere a qualcuno una connessione tra queste due vicende va detto però che tutte le fonti sono concordi nel dire che l'arresto di Sediciato avvenne fra il 4 e il 5 agosto 1980 come detto Sediciato fu trasferito a Tripoli messo in una cella sotterranea e per lui fu l'inizio di un vero dramma Sediciato fu torturato fu picchiato fu minacciato di morte trago queste informazioni dal libro di Claudio Gatti dove Sediciato ha rievocato quei momenti a Sediciato prima chiesero se conosceva Sheaibi per poi dirgli sappiamo che tu hai agito contro la Giamaria come era chiamato lo stato libico gheddafiano Sediciato inizialmente gli disse di non sapere di cosa stavano parlando poi in un tentativo quasi disperato di giustificarsi disse di avere paura di Sheaibi e gli agenti di Gheddafi gli dissero ma come hai paura di un solo uomo e non di una intera nazione poi gli mostrerono i piani per il colpo di stato e le prove del suo ingresso all'ambasciata egiziana in Italia che evidentemente una spia di Gheddafi aveva fotografato a quel punto Sediciato capisce che non ha scampo anche se in corso suo sperava ancora che il colpo di stato di Sheaibi riuscisse ma non sapeva che era tutto fallito e che Sheaibi si era ucciso poi poi cominciarono a picchiarlo lo misero in piedi colpi con i bastoni catene tubi di gomma picchie svenne riprendi sensi rimasi chiusi in carcere senza vedere nessuno per ore fino a quando i carcerei ritornano e ricominciano a picchiarlo per Sediciato e Castelli naturalmente fu l'inizio di una tragedia che sarebbe durata sei anni i due vennero processati da una corte militare che condannò Sediciato a morte mentre Castelli ha dieci anni di carcere successivamente la pena di Sediciato sarebbe stata commutata in Ergastolo davanti a un tribunale ordinario la detenzione per i due fu terribile e li avrebbe segnati per sempre in un appunto dell'ambasciata libica in Italia inviato al governo italiano si legge che Sediciato sotto interrogatorio avrebbe ammesso di aver cercato di contattare le autorità egiziane per conto di Iris Sheaibi e che per svolgere questa operazione chiese l'aiuto del suo collaboratore Aldo del Re il loro caso il loro arresto in Italia in una prima fase suscitò una certa eco ci furono appelli per la liberazione tra cui quello più noto di Indro Montanelli i familiari chiesero più volte ai vari governi di aiutare i loro congiunti ma a lungo fu tutto vano nel marzo 1984 dopo che fu diffusa la notizia della loro definitiva condanna all'ergastolo per Sediciato e a dieci anni per Castelli la famiglia di Castelli diffuse una lettera inviata da suo figlio da suo figlio di otto anni al presidente della Repubblica Sandro Pertini per implorarlo di fare il possibile per far tornare a casa il padre furono presentate anche delle interrogazioni parlamentari tra cui quella del maggio 1985 del senatore veneto Achille Tramarin che fu tra l'altro il primo deputato dell'allora pionieristica Liga Veneta che chiese al ministro degli esteri Andreotti che cosa davvero stava facendo il governo per ottenere la liberazione dei due padovani Tramarin diffuse anche una lettera dei familiari di Sediciato e Castelli dove si diceva che loro non avevano alcuna possibilità di avere notizie e per questo stiamo sempre in attesa di qualcosa di nuovo che ci risollevi l'animo ma stiamo perdendo sempre più la forza di combattere di resistere a questa situazione lo guarante questo appello è perché non sia dimenticato il nostro dolore il nostro bisogno di riunirci ai nostri cari e perché ancora crediamo nel senso di umanità di tutti gli uomini del mondo a questa interrogazione rispose la loro sottosegretario agli esteri Mario Raffaelli ricordando che il ministero negli anni aveva sempre svolto pressioni e interventi in favore dei due detenuti italiani riuscendo anche attraverso l'ambasciata in Libia a farli incontrare in carcere un paio di volte con un funzionario della diplomazia italiana e proprio grazie all'opera diplomatica della Farnesina disse Raffaelli che si era riusciti a far annullare la condanna a morte di Seliciato e a far giudicare i due da un tribunale ordinario e non militare le accuse secondo quanto avevano riferito i libici erano per Seliciato partecipazione a un complotto contro lo stato libico e intesa con agenti stranieri diretta a favorire l'invasione della Libia da parte di un paese confinante oltre all'istigazione a uccidere Gheddafi per Castelli l'accusa era di essere a conoscenza del complotto e di non aver informato di questo le autorità libiche nonché di aver redatto delle planimetrie di zone militari per consegnarle a Seliciato e nonostante Raffaelli facesse sapere che tramite i familiari era stata inoltrata una richiesta di grazie a Gheddafi in persona egli in quel momento non sembrava dare speranze per una celere liberazione liberazione che vi sarebbe stata circa un anno dopo il 7 ottobre 1986 in seguito a una trattativa riservata tra governo italiano e libico i cui esatti termini non sono mai stati resi noti liberazione che portò da parte italiana a liberare un detenuto libico che nel 1980 era stato coinvolto in un tentativo di omicidio di un oppositore di Gheddafi sul suolo italiano e di altri due libici che nel 1981 avevano tentato di uccidere un loro condazionale all'aeroporto di Fiumicino l'Italia libera queste tre persone e la Libia restituisce Seliciato e Castelli nella notte fra il 6 e il 7 ottobre 1986 a seguito di una conferma telefonica che da Tripoli era partito l'aeromobile con a bordo i due italiani da Roma decollò un aereo libico che portò gli ex detenuti libici nel loro paese alle 2.35 di quella notte finalmente Seliciato e Castelli tornarono in Italia e riabbracciarono i loro cari da allora avrebbero parlato pochissime volte Castelli oltre alla deposizione davanti a priori di cui abbiamo detto poco dopo la sua liberazione rilasciò una breve intervista dove ringraziò in modo molto caloroso Andreotti dicendo di esserci reso conto che la stima di cui egli godeva nel mondo arabo aveva giocato un ruolo decisivo per la loro liberazione poi Seliciato è morto nell'estate del 2017 come si legge in un articolo del mattino di Padua uscito il giorno dopo la sua morte una volta tornato a Padua Seliciato non fu più lo stesso lo shock subito in 6 anni di carcere lo segnò appunto sino al decesso e con lui si legge in questo articolo vanno nella tomba tutti i segreti del golpe del 1980 in questo articolo era però riportata anche una dichiarazione del fratello di Edoardo Seliciato Placido Seliciato che ricordava mio fratello era innocente è stato coinvolto nel golpe suo malgrado solo perché aveva rapporti d'affari con Idris Shehaibi ma non era un golpista Edoardo era un galantuomo ed una persona per bene questa è la fine della storia dell'operazione Tobruk per quello che oggi si riesce a costruire un capitolo oscuro di quell'anno tumultuoso 1980 che vide il tentativo di rovesciare Gheddafi fallire in modo catastrofico la Libia rimase nelle mani di Gheddafi l'equilibrio geopolitico di quell'area rimase apparentemente intatto ma la tensione tra le nazioni coinvolte fu palpabile per tutti gli anni a venire come sappiamo la Francia avrebbe saldato a suo modo i conti con Gheddafi nel 2011 con conseguenze che vediamo ancora oggi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti